Per nessuna ragione al mondo, in Italia però sì. Drake Diner, regalati questi tre punti. Regalati, regalati, proprio facendo cunio fra due giocatori. La replica ancora di Drake Diner! Micidiale, devastante, cadesto da tre. In Roma, mamma mia, non fermare il palaggio lì ragazzi, questa è la storia. Drake Diner, Travis è tornato sul parquet ed è in angolo ad attendere. Il blocco di Easley, pick and roll, scarico di Easley per Travis Diner. La finta di Vanuzzo, la bomba di Drake Diner, la terza di questo quarto periodo. Che vincente! Canestro ora potrebbe chiuderlo alla partita. Travis Diner sul cambio contro Datome, lo scarico per Drake Diner che tira in corsa, non ci credo! Mamma mia, i canestro che abbiamo visto oggi, due Datome e uno da Drake Diner, time up per Roma ancora. Mamma mia! Undici punti nel quarto periodo per Drake Diner. Ha una mano questo ragazzo che è veramente... Ok.